E' stata ufficializzata ieri nel corso del Consiglio Comunale la nuova giunta di Monte Corvino-Rovella. Questa è la composizione dell'esecutivo, nominato dal sindaco Martino Donofrio. Corrado Volpicelli, vice sindaco, ambiente, personale e risorse umane. Igiene, acquedotto, mercato settimanale. Francesca della Corte, politiche sociali, politiche giovanili, informa giovane, innovazione tecnologica, start-up. Carmine Falabella, lavori pubblici, manutenzione pubblica, illuminazione, sanità, gestione e farmacia, bandi europei. Maria Coralluzzo, politiche cimiteriali, attività produttive, affari generali, gestione archivi comunali, problematiche servizi enegrafici ed elettorali, rapporti con le frazioni. Stefania Quaranta, pubblica istruzione, edilizia scolastica, cultura, toponomastica, biblioteca. Filomena Salvatore, nel corso della seduta, è stata eletta presidente del Consiglio Comunale. Suo vice sarà Pietro Pizzuti, consigliere di minoranza.